Salve a tutti ragazzi qui è Giuseppe di Gamer e benvenuti in questo nuovo video in cui faremo l'unboxing di Call of Duty Advanced Warfare Infatti ragazzoli è stato rotto il day one e da come potete notare questa appunto è la Day Zero Edition Quindi non è uscita il 3 novembre ma il 31 ottobre o meglio la stanno vendendo già da ora Quindi se anche voi avete prenotato la vostra copia andate appunto a ritirarla Questa è la versione appunto Day Zero, non è la versione speciale Però comunque volevo procedere con l'unboxing visto che sono riuscito ad accaperarmela un bel po' di tempo prima Quindi utilizziamo chiaramente i nostri mezzi super tecnologici senza distruggere qualunque cosa ci capiti a tiro Volevo inoltre parlarvi un po' delle serie che arriveranno sul canale riguardo questo gioco Appunto ho fatto questo unboxing anche per questo motivo Infatti volevo dirvi che non appena avrò la possibilità Quindi credo dal day one del gioco, meglio dalla day zero Quindi credo dal lunedì inizierà il vero e proprio wall true Buttiamo via Della storia del gioco Chiaramente arriveranno un bordello di video del multiplayer Quindi potete stare tranquilli Ognuno troverà quello che vuole appunto sul mio canale per quanto riguarda questo gioco Tra l'altro in questa edizione Non so se potete notare, se mette a fuoco Sono presenti anche delle armi particolari Quindi non vedo l'ora di scartarlo E vedere se ci sono codici e cose simili dovrebbero esserci In primo luogo ci troviamo di fronte il disco di gioco Nulla di particolare Essendo sinceri è una cover piuttosto standard Non è che possa essere così fantasiosa Poi ci troviamo di fronte un vero e proprio Come definirlo? Un cosino comunque Un dépliant come vogliamo definirlo Che ci mostra che sarà disponibile il season pass del gioco Non so se lo acquisterò Comunque ve lo farò sapere chiaramente sulla pagina facebook Mi raccomando seguitemi lì perché lì vi comunicherò quando arriveranno tutti i video Del walkthrough eccetera Poi c'è questo dépliant Questo fogliettino Dove credo ci venga scritto che in pratica ci ringraziano per aver acquistato il gioco In pratica ci dice anche Siamo orgogliosi di avere i migliori fan al mondo E poi c'è la firma di quello che credo sia uno dei cofondatori di Vediamo un po' Sledger Games O come cavolo si chiama Quelli che hanno appunto sviluppato il gioco E poi ci sono chiaramente i contenuti Per quanto riguarda la Day Zero Edition Infatti sono chiaramente tutti i contenuti digitali Vediamo un attimino nel dettaglio Fucile d'assalto AK-12G Balestra B2 E arsenale avanzato Personalizzato d'ottone E su scheletro arma M1 Quantum Quindi ragazzuoli Davvero non vedo l'ora di poterci giocare Io ora in questi giorni inizierò già a registrarmi tutti i video In modo tale da lunedì in poi Da potervi farvi avere quelli che saranno tutte le serie che avvierò su questo gioco Tra l'altro stavo per dimenticarmi di una cosa molto importante Ovvero lo scontrino di vendita Che è appunto questo qui Quindi non l'ho rubato Non ho fatto cose cattive e brutte per avere questo gioco L'ho semplicemente pagato perché appunto lo vendevano prima Quindi ragazzi per ora vi confermo che i video su questo gioco arriveranno da lunedì in poi Altrimenti potrei rischiare di avere i propri strike sul mio canale YouTube Ad ogni modo se vedo che poi davvero tantissimi YouTuber italiani ci incominciano a fare video O meglio a pubblicarli sui loro canali Allora potete stare tranquilli Lo farò anch'io perché avrò già tutto il materiale da poter pubblicare pronto per voi Quindi ragazzuoli spero che questo breve video vi sia piaciuto Magari condividetelo in modo tale da far sapere ai vostri amici Che appunto il gioco è già in vendita Iscrivetevi al canale chiaramente per non perdervi tutti i video su quello che vi vedete Advanced Warfare Quindi ragazzi alla prossima Ciao Ciao